Bitcoin nel lungo periodo, come sta andando la scalata del re delle criptovalute e come procede anche quella delle altre criptovalute, come stanno andando al season sì, al season no? Facciamo il punto su dove siamo arrivati dopo un anno e mezzo di grandi rialzi, dopo un anno e mezzo di grande fase positiva di Bitcoin. Ma dove siamo arrivati rispetto ai dati passati? Dove siamo diretti probabilmente quando finirà questa fase? Mi avete sentito parlare della fase attuale di Bitcoin veramente tanto tanto tempo e vi ho detto appunto che aprile potrebbe essere un mese complesso, così sembra e non sappiamo neanche se è finita la questione, ma dopo tutta questa fase dove potremmo andare? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, è ormai diritto il lancio della moneta che 4 su 4 ci ha preso ancora una volta perché l'altro video ha detto short e così è stata. E di nuovo dice ribasto ragazzi, anche questa volta la moneta Bitcoin e forse avrà anche ragione nei prossimi giorni, ovviamente è un segnale ragazzi molto significativo e robusto soprattutto ed è di natura di breve termine, insomma di breve periodo. E' una mica miseria come funziona ogni tanto, intanto non ci prende niente però ogni tanto funziona, vabbè scherzi a parte. Allora ragazzi prima di andare a vedere questi grafici ne ho 4 in serbo per voi, c'è anche Ethereum contro Bitcoin e vi rispondo a una domanda che mi avete fatto anche quest'anno. Io sarò alla Blockchain Week in Rome, è un evento che viene organizzato ormai da tanto tempo, sono delle giornate un po' formative ma soprattutto quello che piace di queste manifestazioni è senza ombra di dubbio la possibilità di vederci dal vivo e quindi di fare relation, stare insieme, parlare eccetera. Io sarò presente il giorno 30 e 31 pomeriggio, poi scapperò insomma la sera, quindi nei giorni del summit finale in pratica sarò presente alla Blockchain Week in Rome. Tra le altre cose dovrei fare anche un panel divertente con alcuni amici il 31 pomeriggio. Allora io vi lascio il link in descrizione dell'evento se volete partecipare perché c'è un buono che mi hanno dato, un bonus per voi del 10% di sconto, io ve lo lascio. Come sapete dove trovate al costo più basso usate quello dove trovate al costo più basso. In ogni caso mi fa piacere se qualcuno di voi è in zona e viene a questo evento perché mi fa piacere rivedermi ogni volta, ci siamo stati tutti gli anni e anche quest'anno saremo di nuovo alla Blockchain Week in Rome. Allora parliamo per quanto riguarda Bitcoin, dove siamo diretti e che cosa abbiamo fatto. Allora grafico settimanale senza niente, come piace a me, il grafico nudo, 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 naked, potremmo dire grafico naked di Bitcoin, come piace a me. Allora dove siamo arrivati? Questo è il percorso che il re delle criptovalute ha tirato su in pratica dalla fine dell'ultimo bear market, un percorso che per quanto magari in questa fase può essere identificato come una barra di congestione da un mesetto circa e qualcosa, è un percorso di gran lunga molto più forte di quello avvenuto nell'anno 2020-2021 e vi faccio vedere anche il perché. Dall'inizio della fase del 2020 a questa fase attuale più o meno dovremmo essere in una fase di minimo. Guardate qui le differenze, qui siamo a 532 giorni dall'inizio della nuova fase di bull run, se io mi inserisco qui a 532, in pratica eravamo ben lontani dai massimi del 2017, ma molto molto lontani, e con un tasso di crescita di Bitcoin che era arrivato al 199, al 200% contro l'attuale fase del tasso di crescita che è al 311%. Quindi c'è una netta differenza rispetto all'anno 2020-2021 ed è migliorativa da un punto di vista di rialzo. E questa cosa è anomala perché teoricamente con il passare del tempo e l'incremento della capitalizzazione di Bitcoin dovrebbe crescere in maniera meno che proporzionale rispetto al passato, cioè dovrebbe crescere di meno perché è un po' più grosso, quindi in termini percentuali la sua crescita dovrebbe essere inferiore. Capite bene che il 200% a partire da qui, che erano 3000 dollari, siamo arrivati in pratica qui che erano circa 9000, non è la stessa cosa del partire da 16000 e arrivare a 67000 dollari, 66. Non è la stessa cosa e quindi è molto più impattante. Tra le altre cose facciamo anche un leggero riferimento a quello che era invece la situazione nella 2014-2016. C'è una differenza notevole, ovviamente i prezzi di Bitcoin partivano da 200-300 dollari e quindi in termini di estensione, adesso il calcolo lo facciamo insieme ma dovrebbe essere neanche ragazzi, pensate un po', a livello di estensione siamo più alti oggi rispetto a quello che è avvenuto addirittura nel 2016. Quindi da questo punto di vista, pensavo pareggiassero, invece no neanche, da questo punto di vista c'è palesemente un indotto di natura tecnica dovuto alla richiesta da parte degli ETF della domanda di Bitcoin che ha creato una maggiore domanda di Bitcoin creando anche le basi per questo grafico, cioè quello di Ethereum Bitcoin ribassista, di cui vi parlo tra pochissimo prima dell'ultimo grafico che a mio avviso è il più importante di oggi e che riguarda la total market cap del cripto, quindi la questione cripto-valute al season sì, al season no. Quindi in linea di massima Bitcoin è potentissimo rispetto agli altri cicli ed è più forte anche del ciclo di estensione del 2016-2017. Attenzione però a cattar vittoria a dire poi andiamo a fare tutta la seconda parte. Perché di rialzo? Perché questo lato qui ovviamente è stato un lato derivato dalla bassa capitalizzazione di Bitcoin e come così questo è stato un dato derivato dalle emissioni anche di liquidità enormi che le banche centrali fecero in quel lasso di tempo. Missioni di liquidità che non sembrano all'orizzonte, tant'è vero che nel prossimo FONC i tassi sono attesti addirittura in uguali o addirittura c'è una minuscola percentuale che pensa ad un rialzino dei tassi di interesse americani. Figuratevi ragazzi, ok? Quindi ancora ce ne vuole probabilmente settembre per avere un atteggiamento di politica monetaria espantiva. In linea di massima quindi questa fase che verrà più che l'estensione a me interessa calcolare quanto tempo ancora, come diceva il famoso Piaggio in una sua fantastica canzone di tanto vero, quanto tempo ancora ci manca insomma di questa fase per questa struttura ciclica. Allora qui abbiamo due strutture temporali e sono questa che è molto più lunga del 2017 con 532 giorni e quella del 2021 con 315 giorni prima del primo up e poi il secondo sporco, diciamo così, doppio massimo, a 532 giorni esattamente uguali al precedente. Questo significa che siamo a metà strada, quindi potremmo dare un titolo a questo video Bitcoin siamo solo a metà strada ed è quello che io penso in questa fase cioè quello che abbiamo realizzato finora è la metà di quello che dovrebbe essere il percorso naturale di Bitcoin nei prossimi mesi. Mancano 532 giorni ragazzi, 532 giorni sono circa due anni, un anno e mezzo circa di faste ancora in trend. Prima di cosa? Prima di poter verificare o vedere se effettivamente questa ciclicità si ripeterà ancora una volta perché noi non sappiamo se questa ripetizione ciclica potrebbe avvenire nuovamente però un dato lo abbiamo ed è questo 532 giorni, bam 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 bam, guardate qui ragazzi, incredibile. 532 giorni ovviamente sono a time frame settimanale quindi non sono precisi, calcola sette giorni, sette giorni quindi lo slot è di sette giorni, non sono al precisi ma non serve a niente in questo caso esserlo. Quindi ragazzi guardate come è incredibile l'attuale fase, manca la fase più rialzista, la fase più impattante, quella che dovrebbe fare e dare grandi risultati. D'altronde siamo anche nelle condizioni di Bitcoin vicino a questo doppio massimo e quindi solo e unicamente con una breakout effettivo di questi massimi potremmo avere una spinta importante perché poi andiamo in vera price discovery. Per i prossimi video, i prossimi aggiornamenti parleremo anche della direzionalità, del fatto se Bitcoin potrebbe avere un impulso pari a quello che abbiamo visto nei cicli precedenti, pari a questo o pari addirittura a questo ragazzi. Ne parleremo nei prossimi video, però c'è anche una questione da dire. Bitcoin è molto forte in questa fase, tant'è vero che Ethereum sta soffrendo nei confronti di Bitcoin, non tanto forse per le mancanze di Ethereum stessa, quanto per le mancanze di Bitcoin, quanto per la forza di Bitcoin, che lo ha portato addirittura ad avere una struttura ciclica che vedete in questo momento grafico Ethereum contro Bitcoin settimanale che è virata al ribasso nelle settimane scorse. Cioè questa struttura ciclica che teoricamente è attesa di 280 giorni è virata al ribasso. Ciò significa che se questa centratura ciclica, si chiama così, è corretta, non c'è scampo in questo grafico e dobbiamo continuare un trend discendente fino ad almeno ottobre del 2024, ragazzi. Allora, prima data, e io questo grafico ve l'ho messo su perché volevo farvi capire una cosa. Abbiamo una prima data di snodo, cioè la situazione tra settembre e ottobre del 2024, possibile data di snodo e cambio passo delle crypto nei confronti di Bitcoin, parlo delle top crypto, non delle piccole crypto, che quelle possono fare oscillazioni quando vogliono. Allora, intanto, segniamolo in maniera estremamente precisa e con il nostro disegnino classico, dov'è? Lo perdo sempre il rettangolone e non lo troverò mai, eccolo qui. Allora, questa zona di rettangolo, questo possibile area di snodo, più o meno da settembre a circa, vabbè, qui sono andato a novembre, fine ottobre, quest'area di snodo dove le crypto potrebbero in effetti iniziare una fase di bull su Bitcoin, ragazzi. Questa è una cosa importante, adesso vediamo un altro grafico, è l'ultimo ed è quello importante che vi dicevo e ci serve a comprendere questa questione e a questo si accosta anche il grafico della dominance di Bitcoin. Questa è una dominance esclusa, le stable coin su Bitcoin, quindi è una dominance pulita dalle stable coin che non sono utili in questo contesto che ci dice che sulla candela di gennaio 2024 è iniziato un nuovo ciclo annuale che dura più o meno 490 giorni e che ancora manca di una fase di espluato, l'ultima teoricamente per poi dare il via all'altra season. Questa è la verità, ragazzi. Allora, questa zona teoricamente dovrebbe fare l'ultima fase di up, boom, è finita questa fase, non so se arriva a questi livelli, mi sembrano un po' eccessivi. Da questa zona temporale che è esattamente, vedete, luglio-ottobre, quindi c'è di mezzo qui settembre, adesso ve lo calcolo in maniera molto più precisa. In questa zona qui, vedete, settembre, da settembre potrebbe dare il via, ancora una volta mettiamoci il disegnino, dove stai, dove stai, dove stai, potrebbe dare il via alla strutturazione di una fase discendente dipendente per poi chiudere il ciclo annuale di Bitcoin contro le altcoin e quindi dare il via all'altra season. Settembre-ottobre, forse anche un po' agostino, io magari l'accumulo inizierei a fare, rispetto a Bitcoin, ma non è detto che le cripto non partano prima di questa data, perché in effetti, andiamo a guardare l'ultimo grafico, possiamo avere una reazione, da dove? Dalla chiusura di questo ciclo. Criptovalute, sole, senza Bitcoin e senza ETH, quindi queste sono le criptovalute pure, ovviamente fanno forza Solana, Binance Coin, che sono molto più pesanti in questo tipo di capitalizzazione, quindi le top 10, ragazzi, sono molto più pesanti, ma sono escluse le stablecoin, quindi qui c'è molto Doge, Shiba, Solana, Binance, Ton pure, insomma in questa fase che è arrivata nella top 10, eccetera. Questa zona qui è in fase di clonazione, del ciclo annuale. Ora, ciclo annuale potrebbe aver già chiuso, lo so, sembra strano, potrebbe aver già chiuso su questo minimo e io attenderei un pochetto, perché settimana prossima, ma anche maggio, lo attenderei, perché qui anche un allungamento di un ciclo non mi guasterebbe, in linea di massima, in linea di massima. Questa fase è una chiusura di un ciclo annuale, da qui dovrebbe iniziare un nuovo ciclo annuale. Attenzione, che un nuovo ciclo annuale di queste cripto configurerebbe l'inizio di una nuova fase anche su Bitcoin, probabilmente per un tot di tempo Bitcoin reggerà il passo, probabilmente da quando? Da qui fino a settembre-ottobre, e dopo di che lascerà il passo al cripto. Quando? Quando ad esempio potremmo avere raggiunto questo livello di total market cap, faccio dei disegnini per farvelo capire ragazzi, poi vanno tutte confermate queste cose, e da qui in poi il superamento potrebbe innescare l'out season, anche qui. Quindi il superamento di cosa? del trilione, quindi dei mille miliardi per quanto riguarda la capitalizzazione delle criptovalute. Questo è quello che, secondo me, potrebbe essere fortemente impattante nei prossimi giorni. Quindi abbiamo delineato dove siamo diretti. La forza di Bitcoin in questo momento, nonostante le giornate di ribasso di questi giorni che erano, scusatemi il termine, scontate quasi. Quindi semplicemente il mercato sta confermando quello che ci aspettavamo. Non lo fa spesso, però quando lo fa è ovvio che ne prendiamo atto, no? E soprattutto ne prendiamo, tra virgolette, profitto. Cioè sfruttiamo queste cose qui e quello che stiamo facendo in questa fase. Ora, questa fase, secondo me, ha i giorni contati. Io la vedo così. Poi arriverà a giugno, si fermerà a maggio. Giorni per me, ragazzi, un mese, due mesi, sono giorni, eh ragazzi. Non vi pensate che io vi sto dicendo giorni contati oggi e domani. Non è questo. Giorni contati intendo è un periodo temporale che avrà giorni contati. Menti giorni non sono nulla. Non stiamo parlando neanche di breve. È brevissimo periodo per i mercati finanziari. Va bene? Quindi ragionate un po', uno o due mesi di stop. Cioè, niente ragazzi, niente. Va bene? E questa fase ha i giorni contati. Avrà i giorni contati perché poi il mercato dovrà reagire. Ora, se non fa questo, sfasa tutte le strutture cicliche che abbiamo visto finora dalla nascita di Bitcoin. È possibile? Mettetelo in conto perché i dati passati non sono rappresentativi del futuro e non lo ripete, non si ripete mai il futuro nello stesso modo, ma finora è andato così, quindi piuttosto che dire vado alla cieca è meglio dire ragiono sulle analisi dei dati storici. se non lo fa lo sappiamo che può non farlo, ma se lo fa io sono a cavallo, quindi ho una chance in più. Questa zona secondo me è una zona di ribasso attesa e anche importante che darà un grande buy the dip sia per Bitcoin che per le altcoin. Finita questa fase noi dovremmo entrare nella fase della corsa, i 100 metri, cioè l'ultimo grande sprint. E secondo me sarà quello che farà la differenza ragazzi, poi vi ripeto non succederà amen, non c'è nessun problema ma io ci sarò, noi ci saremo e ci proveremo ancora una volta per la terza, sarebbe la terza volta di fila ragazzi e vediamo che succede. Vi ho indicato delle date importanti giugno-luio, mi raccomando per quanto riguarda la fase, no scusate, il settembre-ottobre per quanto riguarda la fase di Switch di ETH potrebbe essere interessante mentre una fase di ripresa che potrebbe avvenire ve l'ho detto nei video precedenti da maggio-giugno vedete il video di lunedì se non l'avete visto e possiamo ragionare su quello. Ok, occhi puntati su questa cosa, cosa ne pensate voi e soprattutto secondo voi dove siamo diretti con Bitcoin in questa fase? L'eventuale fase di estensione gli ultimi 100 metri, lo sprint finale avverrà nelle modalità che abbiamo visto nei cicli passati? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti, confrontiamoci, facciamo un video a riguardo proprio incentrato solo su quello, un video o una live che è strafiga. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo nel prossimo video, la moneta ha decretato il suo esito, ma io dopo domani c'ho l'altro video, quindi ciao raga! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!